Danny Lazzarin ha assolutamente ragione. Il suo ultimo video, il fitness in Italia, è una pagliacciata, è un ode a quello che era il divertimento e che adesso non lo è più. È come poter parlare di un qualcosa che tanto si ama, che ormai è corrotto in un cortocircuito e inserito all'interno di un paradigma volto all'autodistruzione, a un futuro che non c'è, a uno di quei migliaia di multiversi che Dottor Strange vedrebbe e direbbe no, non c'è neanche quella possibilità di salvezza, o se c'è ancora non l'abbiamo vista. Prendete il suo discorso, trapiantatelo, guardate il suo video, ve lo pubblico dappertutto, e adattatelo a quello che è il mio, al vostro mondo, che magari siete qui, ovvero quello del mondo dei videogiochi, del mondo degli anime, dei manga, magari verticali su alcuni tipi di titoli come quelli mioio, e troverete che funzionerà ugualmente. Qualunque cosa si vada ad adattare, che sia un motivo di passione, un motivo di discussione, un motivo di accrescimento e di condivisione, può essere tranquillamente presa e riadattata qui, anche perché io, come potete vedere, di fitness non ne capisco una fava. Il discorso che lui va a applicare è, secondo me, ormai una polaroid di quello che è diventato il mondo delle nostre passioni veicolato su social. Ma non solo, per prima avevamo la possibilità di avere problematiche di questo tipo all'interno dei bar, dei salottini, dei ristoranti con una tavolata lunga, adesso purtroppo che, purtroppo per fortuna, si sposta e si può parlare a molte più persone sui social, chiaramente ci si espone anche con le proprie idee, le proprie opinioni. E questo, negli ultimi anni, ha portato a un tipo di comunicazione da parte dei creator di dissing tra di loro, perché è molto più comodo, è molto più facile, non neghiamolo, è molto più facile sparare malangate di sterco su qualcun altro, ma sicuramente più numeri, più interessante e più adrenalinico, e cercare di fare magari un video dove si parla di qualcosa che si ama, si fa vedere, lo si fa magari più o meno tecnicamente, con magari un po' più di cuore, magari io sono uno di quelli che lo fa un po' più di cuore, e gente invece che lo fa un po' più tecnico, portando la propria passione, il proprio volere, il proprio divertimento, e lui lo specifica tanto nel suo video, peccato che non ve lo posso far vedere, all'interno del mondo, di un posto dove tutti lo possono vedere. Invece, il dissing di questo tipo ha portato, secondo lui, ma anche secondo me, negli anni, a un accrescimento sempre di, maggiore di questa pratica, che influenza anche il pubblico che lo guarda, tirando su generazioni di gente che sa che se lui vede una roba, visto che l'ha visto fare da pinco pallo, deve cazziare qualcuno se dice qualcosa di leggermente differente, o comunque che non è in linea col proprio giudizio, col proprio sentirsi in dovere di poter giudicare da parte di qualcuno che non sappiamo neanche chi sia, chi sei, tu che sei lì dietro, per poterti permettere a rogare il diritto, come dice sempre lui, di giudicare su cose di questo, non stai valorizzando, non stai dicendo all'ingegnere cane che l'arcivolto di quell'edificio è sbagliato, perché numericamente è sbagliato e verrebbe giù tutto, e allora sì, lì, vai. No, stiamo parlando di videogiochi, stiamo parlando di anime, stiamo parlando di mani. Il fatto che molte persone siano in grado di scaricare lo sciacone della propria anima, quella poca che gli rimane, andando a cercare di litigare, creare situazioni di odio, come viene, io sto riprendendo le parole di Lazzarini ragazzi, sto semplicemente adattando quello che ha detto lui qua, andare a litigare e a creare odio su un personaggio di un videogioco, su un'azione di un videogioco, su una mossa di un videogioco, su una rappresentazione, è una roba che è incredibile. Non sono un disilluso, ormai è così, a meno che il sistema non collassi su se stesso, ormai è una situazione terribile. Ma a patirne di più il pubblico stesso, perché chiaramente in questo modo obbligate, obbligano molte persone a mettersi veramente i guanti di nylon e lo scafandro di Bioshock prima di andare a dire qualcosa. Io vi faccio alcuni esempi che siano generali, anche per chi non viene dal gaming community, magari è finito su questo video per caso per farvi un'idea. Recentemente ho fatto un video su un videogioco che aspetto con molta ansia e non vedo l'ora di giocare e faccio un video positivo riguardo, guardo tutti i personaggi e vi dico se mi piacciono o meno. E non ho detto nessuno non mi piace, ho semplicemente detto lo preferisco rispetto a un altro. Anche un modo di linguaggio diverso, no? E c'è un personaggio femminile molto bello che dico guardate ricorda molto questo altro personaggio però al maschile. Ho ricevuto una valanga, una valanga di commenti brutti dicendo che, eh, ma il personaggio femminile è uscito prima, tu non puoi dire che quello assomiglia a lei, semmai è lei che assomiglia a lui. Voi che vi alzate la mattina e fate un commento del genere siete un problema. Avete un problema? È inevitabile. È innegabile. Avete un problema. Non state vedendo una passione per quello che è, ma state semplicemente portando odio e veleno all'interno della discussione. Altri esempi possono essere, magari, ragazzi, vi faccio vedere questi personaggi che secondo me sono molto forti, a me piacciono, eh, però sei stato lento, eh, però con quel personaggio siamo bravi tutti. Avete un problema, ragazzi, avete un problema molto grosso. La community? Le community, che io fatico ormai a chiamare community, perché è sempre questa, questa parola volatile, no? Gruppo aggregato, una comunità. Ma siamo sicuri che siamo, sono comunità? Non lo so, io non riesco più a vederle in questa maniera qua. Sono fatte per discutere, anche discutere, poi ovvio è utopico tutto questo, perché la testa di cazzo ci sarà sempre, quello che ti, magari quello che ti sta a pelle sulle palle, ci sta. Però, avere questa arroganza. Pensate nel fitness, gente che, come se io andassi a commentare, no? Su un video di uno che fa i pesi, come lui dice, appunto, che tocca col pelle. Ma io non ne ho idea se fa l'esercizio giusto o l'esercizio sbaglio. Non ne ho idea. Non lo so. Altrettanto, molte persone non hanno idea di quello che stanno guardando. Eppure devono criticare. Perché magari hanno sentito o hanno visto una volta o sanno tanto così. Non voglio correggere il mondo. Non voglio correggere il mondo di YouTube. È impossibile. È impensabile. Ma questo video, quando l'ho visto, ho detto, cazzo, Danny, sì. È proprio così. È proprio questo quello che sta succedendo in questo momento. È proprio questo. Non c'è più il divertimento. Anzi, purtroppo, facendo in questa maniera qua, sarà sempre meno il divertimento. E sarà sempre più il cercare di parlare. Però, ragazzi, mi raccomando, io non ho giocato a questo. Io però ho fatto questo. Capitemi. Non mi fate del male. Cioè, non si ha più l'opinione. Si ha soltanto un flat. E molti di voi lo notano. E molti di voi, giustamente, chiedono altro. Vogliono altro. Vogliono poter dire, ragazzi, questo personaggio a me non mi piace. Senza aver paura di trovare quello sotto casa che ti sputa. Non esiste più. Non esiste più questo. Il discorso che poi lui fa è un discorso su un esempio un po' brutto, che io non condivido tanto. Però diciamo che lo traslo in questa maniera. Che siete fortunati. Ora, io parlo come se foste tutti più giovani di me, dall'alto nei miei 36 anni. Però, purtroppo, c'è gente così che neanche 40, 45. E l'ho trovata specialmente nella discussione poi più ampia della critica videoludica. Persone che sono totalmente incapaci di scindere, di fare una valutazione oggettiva. Questo poi è un discorso che si potrebbe fare molto più ampio sulla comprensione di un testo. L'Italia è quasi al ventesimo posto. Delle robe senza senso. Che fanno dei commenti sul mondo videoludico che non lo fanno andare avanti, ma lo fanno andare indietro. Se abbiamo dei giornaletti, se abbiamo delle riviste, se abbiamo dei rotocalchi online che non corrispondono alle nostre aspettative. E perché anche noi non siamo in grado di far ricrescere, di far evolvere questa cosa. Ma ci poniamo a livello basic da Decelebrati facendo commenti da Decelebrati. Esempio, ci sono degli esempi recentemente di gente, bello World's Legacy con la grafica da PS2. Ma che commento è? È bello questo, è uguale a quello. Non riusciamo a convogliare più la nostra passione, il divertimento, il bello. Un po' è colpa nostra. Un po' è colpa del mezzo. Un po' è che la vita fa schifo. Un po' sono tante cose. Ma vi dicevo, l'esempio che lui fa è che siamo fortunati. Ci sono persone che sono fortunate. Lui fa l'esempio, vi alzate al mattino, ho caffettino, ho guardato i social e vomitate odio sulla gente. Siete fortunati a poterlo fare. Sono persone che non lo possono fare. Non entro nei dettagli degli esempi come ha fatto lui perché non mi piacciono. Ma non siete a spaccare sassi. Non sono io a spaccare sassi. Non siamo in quella situazione lì. E vi assicuro che io so cosa vuol dire fare dei lavori duri perché io ho fatti nella mia vita. Molti pensano che chi sta anche magari dietro parla di queste cose. È un privilegiato quindi bastardo. Non può dire quello perché io amo. E c'è anche un discorso di passione. Io sono più, io ho più amore di te verso questa cosa. Tu parli di Sonic. Sonic lo conoscete, penso potuti. A me Sonic non piace tanto, ragazzi. Io sono più Team Mario. Non mi piace tanto la Siga, Sega. Ma preferisco di brutto Mario. Ma perché te non ami videogiochi come li amo io? Tu non capisci Sonic, bastardo. Abbiamo perso il criterio e l'importanza di molte cose. E soprattutto, come dice Danny, abbiamo perso il divertimento. È un peccato. È veramente un peccato. Se uno mi chiede, c'è una soluzione? C'è un qualcosa? L'unica cosa che si può dire è il cercare veramente di porsi delle domande prima di fare un commento cattivo. Magari dire, vabbè, non rispondo. Non lo seguo più, me ne vado. Cercare di mettersi e di porsi in una maniera sempre educata. È utopico tutto quello che dico. Però, d'altronde, devo creare una quadra. Perché se no, è veramente... Non c'è una soluzione. Non c'è. Se no, l'apoptosi di questo sistema. Non si dice Sino. Si dice Chino. Si dice Saino. Si dice Caino. Ma quante persone io vivo e vedo totalmente ogni giorno che nel mio... Vi ho usato un termine tecnico apposta. Apoptosi. Sapete il greco, sapete che cosa vuol dire. È lo stesso discorso che faccio sui personaggi. Se io ho una passione per un personaggio o un videogioco e mi studio anche l'etimologia della parola e mi guadagno qualcosa di arricchirmi culturalmente. Questo personaggio si chiama... In inglese lo dicono Saino. In egiziano è Saino. In greco come sarebbe perché c'è stata Chino. Tu non puoi arrogarti il diritto di venire a dirmi che non capisco niente, che sono cringe. Perché sei tu che non ti sei informato. Ponetevi delle domande. Ponetevi delle domande a voi stessi prima di domandare. Cercate di mantenere un bel modo di stare online. Lo stesso dovremmo fare noi creator, eh? Per l'amor di Dio. Quante volte, diciamo. Ah, quelli si menano. Prendo i popcorn. Ah, quelli fanno dissing. Mmm, vediamo che cosa sta succedendo. C'è anche questo, eh? Non crediate che... Sto mettendo tutto nel pacchetto. Però, d'altronde, che soluzioni abbiamo? Passioni. La passione è amore. Ma se l'amore viene costantemente calpestato, anche il cuore si indurisce. E chi perde? Perdon tutto. Non lo so, questo era un video di getto che volevo fare. Non è volto a trovare una soluzione. Era volto solo a vedere un... Un Danny Lazzarin che io stimo molto. Come persona. Come imprenditore. Come professionista. E che vedo proprio abbacchiato, proprio, lo vedo deluso, ecco, deluso da un mondo che probabilmente lui ha visto crescere e che ha fatto sì che crescesse in questa maniera qua. E che di cui adesso è totalmente disinnamorato. O almeno, non del fitness, ma della community, di quel tipo di community. E lo si vede come si sia indurito. Ma questo lo vediamo un po' tutti. Dice, io ho fatto un lavoro su me stesso, prima ci rimanevo male, adesso non ci rimango male. Io ancora ci rimango ogni tanto male, ma è più rabbia e sta diventando sempre meno. La mia passione, il mio sacro fuoco, quanto volete persone che parlino ardentemente di qualcosa che vi chiamate. Ecco, così è solo acqua sul fuoco. Non so. Era un video così. Prendetelo per quello che è. Prendetelo per quanto riguarda il nostro corso, non ci rimanevole, adesso 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 non ci rimanevole,